È stata presentata questa mattina nella sede consigliale la nuova piattaforma web per i giovani del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano www.nova-bz.org realizzata in collaborazione con la Facoltà di Design e Arti di Unibizeta Sappiamo che la formazione politica inizia dai giovani e infatti da anni il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano aveva un sito a loro dedicato Ora abbiamo deciso di rinnovarlo creando una piazza virtuale dove ragazze e ragazzi che si interessano in politica e attualità possono non solo raccogliere informazioni ma anche pubblicare i loro contributi sul tema Per realizzarlo abbiamo chiesto la collaborazione della Facoltà di Design e Arti della Libra Università di Bolzano La Facoltà di Design e Arti di Unibizeta con il professor Christian Uppmayer e il dottorando Matteo Pramio aderito con entusiasmo alla richiesta di rivedere la vecchia pagina web per i giovani del Consiglio Provinciale È una nuova piattaforma che mira ad avvicinare i giovani alla politica locale e soprattutto a quello che viene discusso all'interno del Consiglio Provinciale La cosa interessante è che rispetto alla piattaforma vecchia questa mira a coinvolgere i giovani in maniera molto più attiva e partecipe quindi possono essere sia autrici e autori di articoli ma questa partecipazione è avvenuta anche nella creazione stessa della piattaforma quindi il processo tramite la quale è stata sia pensata, sviluppata e anche concretizzata è stato un processo partecipativo che ha coinvolto appunto 250 ragazzi delle scuole superiori e anche dell'Università di Bolzano, nello specifico la Facoltà di Design e Arti Una cosa anche importante è che questa piattaforma non va vista come un punto di arrivo cioè quello che adesso è visibile online non è già determinato e finito diciamo ma è una piattaforma in via di sviluppo www.nova-bz.org contiene già alcuni articoli sviluppati da giovani come George Lungu dell'Istituto Claudia De Medici Mi è arrivato un'email dalla scuola guardando il progetto Nova dopo qualche ricerca in rete ho deciso di provare i motivi principali che mi spingono sono quelli di informare la gente sulle nuove cose che succedono in provincia e anche sulla storia e sulla politica locale Anche Melanie Ricchermo e Sara Gasser del liceo Maria Uber di Bolzano hanno elaborato con le proprie compagne e i propri compagni interventi che verranno pubblicati prossimamente Ora la palla passa a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno voglia di dire la loro contattando la redazione tramite il sito nova-bz.org Possiamo quindi dire che Nova è un portale creato dai giovani per i giovani